Tifosi Nerazzurri, un saluto ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per quello che è il nono atto della Serie A femminile 2021-2022. L'Inter di coach Rita Guarino, ospita l'Elas Verona di Matteo Pacchera. Tutto pronto, fischiato in bocca, parte Inter-Elas Verona. L'Anstrom, il cross in mezzo, lontana la difesa veronese, Sonstewold raccoglie il pallone, il tiro in porta di Sonstewold! Cosa ha fatto Agna Sonstewold? Da oltre 30 metri trova un gol bellissimo quando siamo al sesto minuto di gioco e l'Inter è già in vantaggio. Palla dentro per Marinelli, prende il campo Marinelli, il cross in mezzo, arriva al colpo di sinistro da parte di Tatiana Bonetti e l'Inter trova il 2-0. Gran gol di Tatiana Bonetti ma capolavoro anche da parte di Gloria Marinelli. Tutto pronto, parte Rognoni, il tiro in porta, la grande risposta di Francesca Durante. Rivediamo il tiro di Rognoni, la palla toccata e poi sul palo. Qui buco ancora di Orwat, può ripartire l'Inter con Marinelli, contropiede, 3-1. Attenzione, la palla dentro per Agera Angioia, adesso Agera Angioia, il tiro, la traversa, palla che rimane lì ancora. Satiana Bonetti, di destro, però fermo tutto per un offside. Rivediamo d'esterno, Marinelli su Agera, colpo centrale, palla sulla traversa e poi ci ha provato Cargioni e forse era proprio Cargioni in fuorigioco. Si accentra Bonetti, chiama in causa Simonetti, si allarga Marinelli, però non è proprio per regolare Marinelli. che di sinistro la mette in mezzo, la palla che rimane lì, il tiro in porta e arriva la rete da parte di Gutià Cargioni ed è un altro gol meraviglioso da parte dell'Inter. Sonstewolde trova benissimo, gola di Marinelli, può partire l'Inter in contropiede. Marinelli ha solo l'edri davanti, se centra Marinelli, la palla dentro per Agera Angioia, Agera si gira, mette giù un avversario, Agera! 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 4-0 Inter, con la calma delle grandissime occasioni Agera mette a sedere Jelencic e poi col destro trova il quarto gol dell'Inter. Cargioni, il pallone su Tatiana Bonetti, di sinistro Tatiana, se centra ancora Tatiana Bonetti, salta l'avversario, il tiro in porta! Palo centrato da Tatiana Bonetti, rivediamo, fa tutto bene, poi di sinistro c'è il tocco anche di Kaiser sul palo. Palla lunga per Tatiana Bonetti, ha un po' di spazio, tutto sinistro per Bonetti, il cross in mezzo invece è di destro! E non è un cross, è un gol, è pazzesco ancora una volta da parte di Tatiana Bonetti che sorprende tutti. Non è un cross, è un gran gol! Palla che torna indietro, prova a lottare Bonetti. Qui il tiro in porta, in due tempi, palla che rimane lì! Vicino al gol del 5-1 al Verona, Cisarra. Si va a vedere i polli, il numero con Gutiakargini che fa tutto da sola, Gutiakargini, la palla per Bonetti che scarica in porta un destro potente. C'è la risposta di Kaiser. L'arbitro dice che basta così, l'Inter vince e convince contro il Verona. 5-0 il risultato finale. 5-0 il risultato finale.